I calchi delle vittime ci fanno vedere l'agonia di persone morte durante l'eruzione del 79 d.C., dunque qualche decennio dopo i fatti che ricordiamo in questi giorni di Pasqua. E ci ricordano che al di là delle uova di Pasqua, di ogni forma e grandezza che troviamo nei nostri supermercati, c'è anche una storia di uomini e donne che ci è stata tramandata. E quel mondo in cui affondano le radici della nostra cultura, non ultimo il cristianesimo, lo possiamo capire meglio anche grazie a Pompei. A Pompei in realtà le testimonianze della nuova fede sono scarse, anche molto discutibili, però ci fa vedere un mondo, ci fa vedere il mondo anche dei ceti meno ambienti, di cui spesso parlano i Vangeli e qui c'è un calco, per esempio, di una persona, un giovane che è stato interpretato come un viandante, un mendicante con una bissaccia, un bastone che si leggono ancora nella forma del calco. Grazie a tutti.